ciao sono paolo bacci vi presento questo bellissimo laica cosmo emblema 509 un camper lungo 7 metri e 47 guardate è una novità per quanto riguarda laica questo è il grande garage guardate come spazioso veramente un grandissimo contenitore trasporto può portare 150 kg uno spazio qui uno spazio di qua e qui c'è il controllo per quanto riguarda la combi la stufa e ora andiamo dentro porta molto ampia con la zanzariera all'ingresso questo camper è un camper che può essere anche per le cinque persone ecco perché la scelta a parte che la laica fa sia il 509 l con la doppia di nette face to face o il 509 come in questo caso con i posti fronte marcia perché fronte marcia perché questo avendo letti singoli può essere comodissimo per più di due persone quindi avere il terzo il quarto posto in fronte marcia facilmente con una seduta facile è molto più confortevole questo tavolo si sposta 123456 persone in estrema comodità se volete vedere tutte le caratteristiche di questo campo e con gli opsola che ci sono guardate sul sito carabambacci.com alla scheda del 509 allora blocco cucina quando c'è la seduta così la cucina aumenta quindi un grande piano d'appoggio un bel lavello e poi anche tre fuochi molto grandi vari cassettiere e un bel contenitore sopra a pensile un frigorifero molto grande con congelatore sono gli slim quindi sono hanno una buona capacità di contenimento per bottiglie soprattutto e altro la parte in questa zona viene si mette in caso qualcuno volesse il televisore il televisore che si può spostare quindi può essere visto nella zona giorno oppure fuori oppure un po meno dalla parte posteriore i due questo è un classico con due singoli allora c 6 7 metri 47 quindi molto comodo e confortevole il letto facile da salire e andare a letto guardate come molto semplice grande quindi questo può essere o due singoli o mettere un nipotino qui nel centro che tutti amerebbero avere oppure avere come option allungamento di questa parte e creare un letto o a tre piazze uno accanto all'altra oppure un matrimoniale per traverso molto luminoso perché ha la finestra destra la finestra sinistra e l'oblò soprastante l'armadi l'armadi nei singoli sono stati sono vengano messi sotto quindi molto capiente ora pensate che il punto di vista vedere un armadio davanti è una cosa vederlo sotto è un'altra però è molto capiente molto più capiente gli armadi sotto i letti che non quello davanti per quanto riguarda la divisione la porta del bagno si divide la zona giorno e come vedete è un ottimo spogliatoio una da enorme una bella privacy della divisione tra la parte posteriore notte e servizi e la parte giorno il bagno comodo guardate sia a porta aperta benissimo ma anche a porta chiusa e anche il lavandino è ben pronunciato con questa bella finestra quindi è veramente piacevole anche farsi la barba che c'è un grandissimo specchio che non vedete però è molto comodo questo è un attrezzo per poter mettere l'asciugamani quindi tutto è pensato per darvi il massimo comfort per quanto riguarda la doccia c'è questo piano che serve quando non si usa la doccia si ci si può montare sopra tranquillamente e poi oltretutto blocca quando siamo un viaggio l'apertura o il movimento dei di queste pareti divisorie e guardate come grande veramente comodo non sapevo come quindi veramente veramente facile da fare una bellissima doccia questo è il letto basculante come vedete il letto basculante copre lo blocchio ora vi farò vedere però il camper sia dalla finestra anteriore che dalle finestre laterali è molto luminoso allora avere camper all'aperto vuol dire vedere la reale luce quindi la reale luce di quando si vive il camper che a volte camper esposti all'interno falsano poi la reale abitabilità del camper la nostra è una scelta voluta questo hai letto che si può si aggancia c'è una scaletta che si per salire allora tutti i letti basculante laica hanno la protezione sia la parte posteriore che dalla parte anteriore questo anche se chiude la porta vi dico vi faccio vedere che state rilassati perché aveva molto molto facile uscire senza problemi e cosa permette il fatto che il letto copre la porta di avere un letto veramente grande il salire sopra questo letto vi consiglio di passare sotto montare sopra le sedute dei e delle due poltroncine e poi salire con estrema facilità guardate com'è grande e confortevole c'è la separazione e tutto ti aspetto a vedere questo camper ve lo spieghiamo perché la nostra professionalità vi diamo anche un consiglio perché è importante avere il proprio camper il proprio vestito il camper non deve essere acquistato perché l'amico ti ha detto una cosa o un'altra noi cerchiamo di darvi la nostra opinione per poi farvi valutare il camper più adatta a voi come sapete a un prezzo stupendo da una concessionaria solida come la caravambaccia ciao ciao